120 gli orsi polari che quest'anno si sono dati appuntamento alla canottieri Caprera di Torino per il cimento invernale del 2020, il tradizionale tuffo nelle acque del Po che dal 1899 si svolge senza interruzioni durante la domenica più fredda del mese di gennaio. Il primo tuffo ormai 121 anni fa venne organizzato dal colonnello Nino Vaudano, fondatore della Rarinantes Torino e pioniere del nuoto italiano. Dall'ora e da quei primi pochi temerari il cimento e la passione degli orsi polari è cresciuta fino a diventare un evento atteso e molto apprezzato dai torinesi. È una tradizione che è un po' un segno di omaggio e di rispetto nei confronti del fiume Po. È anche un segnale alla popolazione, ai cittadini della città di Torino che il Po è una parte integrante della città, deve essere rispettato e deve essere comunque tenuto sempre in vita anche dal punto di vista ecologico e ecosostenibilità. Ginevra e Futura, otto anni, le tuffatrici più giovani del 2020. Milena Gualtieri, 77 anni e Michele Lassandro, 86, gli orsi polari di più lungo corso. A scandire i turni dei tuffi il decano della manifestazione, Sergio Marzorati, 96 anni e fino a un paio di edizioni fa in prima fila sul pontile. Patrimonio delle tradizioni piemontesi, quest'anno il cimento invernale è stato inserito nel calendario di eventi pubblici con cui verranno festeggiati il cinquantesimo anniversario della istituzione della regione Piemonte e il quindicesimo anniversario della promulgazione dello statuto regionale. Non è solo folclore ma è anche un'azione di coraggio, un'azione di coraggio per Scaramantico, per il nuovo anno. Questo deriva dalla manifestazione del cimento sul Po come avviene in tante altre realtà. Il Consiglio regionale quest'anno ha voluto partecipare direttamente con il Consiglio ma anche col Presidente stesso che si tufferà. Dei primi temerari tuffi di fine ottocento il nuoto è cambiato diventando anche in Italia uno sport e una passione per più di 4 milioni di persone. A rimanerò lo stesso però è lo spirito degli orsi polari. Com'è andata? Benissimo, è bellissimo e lo consiglio veramente, è una botta di energia incredibile. Benissimo, quest'anno però c'è caldo quindi non vale. È bellissimo, è una bella carica. È lo spirito che ci unisce nell'affrontare questa prova che tutto sommato manifesta un po' così il piacere di superare se stessi. Sono più di vent'anni che faccio, adesso tra un po' ne faccio un altro.